Oh, gran bel giornale. Credo sia sotto sopra. Ehi, tesoro! Che succede? Tesoro, quante giravolte può fare un cane? Ecco, quant'era l'ultima volta? No, tesoro, sul serio? Qualcosa non quadra con Firulais. Che succede? Che cosa ha Firulais? Fa le giravolte! Laura, è un cane, è una cosa normale. Ma no, vai a dare un'occhiata. D'accordo, Firulais, che hai... Che stai facendo, Firulais? Ecco cosa intendevo, caro. Perché volteggia nell'aria? Non lo so! Tranquilla, chiediamo a internet. Dammi il telefono. Eccolo. Die! Ok, non funziona. Tesoro, mi hai lanciato il telefono! Cosa facciamo? Sono senza cellulare! Chiamo il veterinario. Hai lanciato il mio telefono al cane che volteggia in aria, cavolo! Va bene, ci penso io. Salve, piacere, mi chiamo Org. Ma che fa il cane a mezz'aria? E che ne so, per questo l'abbiamo chiamata. Che succede a Firulais? Credo di capire, avete un cellulare? Certo, ecco il mio. Die! Non ha funzionato. Oh no, che succede a Firulais? Tranquilla, guardi il lato positivo. Un cane che volteggia in aria è molto proficuo. Sì, è bello. Posso tenerlo? Cosa, Firulais? Ma è il nostro cane! Quanto offre? Tesoro! Ovviamente scherzavo. Ho un dolcetto. Tesoro, è solo un dolce! Sì, ma è delizioso! Va bene? No, è il nostro cane! Ma tesoro! Bene, vi lascio al vostro cane levitante, tolgo il disturbo! Bene, adesso che intenzioni abbiamo con Firulais? Non so, a volte non è tanto male. Mi sa che hai ragione. Oh, che succede? Firulais, che succede? Salve, sono Firulais. Ma che cazzo è successo? Ho girato 877 volte ed ora sono un essere superiore. Cosa? Devo ringraziarvi per come mi avete trattato. Cosa si fuma missa per creare queste storie? Anche per non avermi lanciato cellulare addosso. Dato che è il mio punto debole. Ah no, no, certo che no, ovvio! Ah no? Cos'è questo oggetto? Oh no, umano, perché... È morto? Che hai fatto, caro? No, Firulais, ti prego! Scherzetto. Ah, Firulais! Fine!